Ragazzuoli, piccola incursione prima del video per fare tanti auguri di buon compleanno ad Andrea Rep, iscritta al mio canale che oggi compie 11 anni e per un caloroso saluto a Gabriel17TM e un ringraziamento per tutti i consigli che mi dà in ogni video. Se qualcuno volesse salutato a me lo dica che io provvederò a farlo. Detto questo, vi lascio al video dei gamberetti, signori miei. Bella raga! Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati nella 7 Series, ovvero la serie delle 7 con il nostro amore camberetti alla conquista della Premier League, signori miei. Allora, 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 noi siamo settimi in campionati, abbiamo un po' di mails perché abbiamo, se non sbaglio, abbiamo giocato con i panchinari l'ultima partita, ragazzi. Questo se lui, old, sta attraversando un buon momento, ci penseremo a farlo giocare, è anche Njokubu, Njokubu, che praticamente, allora, erano andati in nazionale, infatti abbiamo in campo tutti i panchinari. Quindi, rapido sostituzione di tutti quanti i giocatori dentro Stockholm, Sullivan fuori per Delev, Bryant fuori per Wilding, che è tornato, che farà coppia con Diagurara. Vediamo lui e mettiamo dentro Wilding, fuori Ellison, dentro Tonev, fuori Cruston, dentro Park, fuori Blue, dentro Sutton, fuori Bacaré, dentro Old, fuori Braxton, dentro Raja, fuori Roche, dentro Njokubu, un altro nome impronunciabile, signori miei. E andiamo in campo contro il, boh, non so chi, contro chi giochiamo, contro il Cruv, giochiamo contro il Cruv, signori miei. Partita, non so, noi siamo settimi in campionato, siamo un punto sopra l'ottava, il Porto Valle, e un punto sotto il Meshfield, che è sopra di noi. Andiamo a stimolare la partita, siamo fuori casa, signori, siamo arrivati al 23 novembre. Noi non penso che avremo soldi per poter affrontare un buon... Attenzione, attenzione, attenzione! 3-0 per i gamberetti, bella così! Leitch, Stockholm e Tonev. È entrato tutto, è entrato tutto al posto di Delev e Diagurara per Sullivan, al contrario. Va bene, una vittoria importante, raga. 3-0 fuori casa e tantissima roba. Tantissima roba 3-0 fuori casa. Bello così, bello così, mi è piaciuta. Bella prova dei miei gamberetti. E andiamo avanti, signori, torniamo, diventiamo sesti, diventiamo sesti. È una molto combattuta, signori miei, molto combattuta. Allora, oltre al contento, prestazione di Tonevolo, è la stessa cosa del nostro portiere. Nyo Bu, ottimo lavoro, bravo così. Se non sbaglio possiamo fare gli allenamenti, sì. Alleniamo i nostri giovani, vediamo se riusciamo a far crescere qualcuno da portare in prima squadra. Così da avere delle soddisfazioni, quantomeno, raga. E poi potremmo anche vedere di fare una sorta di qualcosa di tipo vendere e avere più soldi per noi. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Per ora va bene così. Attenzione, stiamo arrivando al primo di dicembre, se non sbaglio, in cui dovrebbe arrivare anche il nostro osservatore. Fermiamoci. Girish Monnogiot, riservato a squadra mensile. Aggiornamento dell'osservatore. Andiamo a vedere cosa ci ha portato dalla Scozia. Logan McNeil, 6884, un C.O.C. Ma io questo me lo porto a casa, raga. Poi vediamo. Douglas McNeil, abbiamo trovato il nostro portiere, raga. Abbiamo trovato il nostro portiere. Questo ce lo portiamo anche a casa. Patrick Anderson, non mi sembra da questo granché. Haydan Nicholson. Questo è tantissima roba, ce lo portiamo pure a casa. E wow, wow, Matt Chinken, Mitchell, lo mandiamo a casa perché non è niente di particolare. Andiamo a vedere un attimino questi. Intanto, allora, calma e sangue e freddo. Andiamo a sistemare ora gli allenamenti. Allora, leviamo Stockholm, che sinceramente non mi interessa più. E mettiamo McInlay. Il nostro portiere del futuro, signori miei. Capitano in futuro, lui diventerà il nostro portiere più forte. Poi abbiamo Wilson, che io metterei in prima squadra per vendere subito. Ora vediamo. Wilson non mi ispira niente di che. Leviamo Wilson, perché se non ricordo male, avevamo uno che era molto promettente. Haydan Nicholson, infatti, 200.000. Allenati tu. In quello che vuoi. Sterno sinistro, sei il mio futuro praticamente. Va bene così, va bene così. Manteniamo Raid. Johnson. Il nostro portiere, Mitchell, sarà già 52. E l'altro, no, Mitchell, sarà il 53. E McInlay, sarà il 52. Impronunciabili. Ma perché mi capito sempre portieri impronunciabili? Va bene, non fa niente, non fa niente. Allora, andiamo avanti. Prossima partita di campionato, signori. Contro il Carlisley. Carlisley in casa. Giochiamo con i titolari. Non tocco nessuno, anche perché l'altra partita, se l'ho visto male, è di Coppa. Quindi in Coppa potremmo giocare con i panchinari. Andiamo così, raga. Contro il Carlisley. Dagli, raga. Dagli, raga. Dagli, raga. Butta. 5-1. Partitona dei nostri gamberetti. Mamma mia, goleada. Spettacolo. 5-1. Gol di Sutton. Tonev. Doppietta di Stockholm. E un gol di Leitch. Bella così. La goleada. La goleada, signori miei. Bella così. Bella così. Allora. Allora. La prossima è il secondo turno di FA Cup. Contro il Forest Green. Aspettate con le... Ah, dai. Mi sono preso un appunto per il titolo dell'episodio, raga. Allora. Questa è partita di Coppa. Partita di Coppa. Noi, se non sbaglio, avevamo un obiettivo di Coppa. Che però non ricordo qual era. FA Cup. Mantieni. Raggiungi 16. Ah, l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Ok. Vediamo quando è invece l'altra partita. Dopo questa di Coppa. È molto vicina. No. C'è tempo di recuperare. Giochiamola con i panchinari, raga. Con i titolari. Giochiamo in casa con i titolari. Con il Forest Green. Vediamo se riusciamo ad avanzare il turno. Ci darebbe valore alla squadra. Vediamo, 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 vediamo. 1-0. Gol di Delev. Bella così. 1-0. Gol di Leve. Passiamo il turno in FA Cup. Andiamo avanti. Buono, 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 buono. Sono felice dell'elevato. Allora, lui è felice perché lo stiamo facendo giocare tanto. Sono contento. Abbiamo trovato dei disoccupati. Apprezzo il tuo impegno. Dei disoccupati che stanno rendendo molto bene, signori miei. Allora. Avanziamo di un giorno in modo tale che possiamo andare a fare gli allenamenti. Fermati lì. Perfetto. Andiamo ad allenare la nostra squadra. Daglie così. Nicholson sale a 56. McKinley sale a 53. E il nostro capitano futuro, il nostro portierone, sta crescendo bene. Sta crescendo, già è salito di due punti. Tanta roba, tanta roba. Andiamo avanti. Giochiamoci l'ultima partita di oggi in campionato. Noi siamo quinti a 35 punti. È una classifica che sale e scende in maniera incredibile. Siamo tutti lì. Siamo tutti lì. A parte lo Swinson. Potremmo fare allenamenti? No. Ho sbagliato a fare l'interruzione. Pensavo potessimo avvicinarci a fare allenamenti. Invece no. Allora andiamo avanti fino alla partita contro i pescatori. Non so che squadra sia. Il Plymouth. Il Plymouth. Giochiamo sempre con i titolari, senza perderci d'animo. Dagli così. Dagli così. Se riusciamo a fare una vittoria anche ad oggi, raga, episodio spettacolare. C'è un filotto 1-1. Va bene. E va bene. Va bene. L'abbiamo pareggiata al sessantesimo. Con l'uomo in più. Potremmo fare qualcosa di meglio. 1-1. E va bene. Dai. 1-1 ci può stare. Ci può stare. Va bene così. Va bene così. Allora. Mister, se non decide di mandare in campo, Salivan si è arrabbiato. Ecco, lo sapevo. Forse era meglio giocare qualcuna di Coppa. Qualche partita con i panchinari. Però va bene. Mi sa che tra un po' ci saranno dei cambiamenti. Perché molti hanno il contratto come titolari o importante. Quindi, giustamente. Non stiamo seguendo i piani. Stai zitto. In tuo posto di squadra non è a rischio. Teniamocelo buono per ora. Poi vedremo. Andiamo avanti fino alla prossima partita, raga. Che si giocherà, non so quando. Vedete, siamo nuovamente precipitati in settima posizione a 36 punti. Basta una partita storta che poi abbiamo pareggiato. Nemmeno abbiamo fatto una partita brutta. Rischio di perdere 3 giocatori. Allora, arriviamo al ridosso della partita di campionato. Al ridosso della partita di campionato. Dopodiché, vediamo. Uh, ci è arrivato anche l'osservatore. Buono, buono. Aggiornamento dell'osservatore. Partita spostata a premio torneo. Buono. E rischio di perdere 3 giocatori. Stocco, Slough e Rocher. Ora, dopo andremo a vedere. Vediamo l'osservatore cosa ci ha portato. George Roberts. Questo è più confuso che altro. No. Ciao. Ciao, George. Jamie Mover. 59,77. No. Elliot Morris. 68,92. Questo è interessante. Portava a casa. Max Carter. 58,80. No, è inguardabile. Mi dici invece i 3 giocatori che rischiano di perdere. Stocco, Slough e Rocher. Perché? Mi sa che gli scade il contratto finanze. Andiamo a vedere un attimino. Contratto. Allora, Stocco, Rock, 2. Perfetto. Va bene. Allora. Vediamo. Delega rinnovo. Lui quanto prende? 1000. Ne vuole 1300, 1900. Va bene. Andiamo avanti così. Un anno? Sì, accettiamo. L'anno prossimo mi sa che divenderemo tutti. 1900, 31, no. 31, no. 31, decisamente no. Se vuoi, facciamo stipendio a partire da 2,5. 2,2. Non salire oltre 2,2. Non salire oltre i 13. Ma di chi sta a parlare? Ma che è impazzito. I 3,5 massimo. Massimo che ti posso dare. Guarda. Oh, 2,2. Accettato. E l'altro è Slow. Che vuole rinnovare. Un prende 1,9. 2,7, 3,7. 2,7, 3,7. No, partiamo da 2,1. Fino ad arrivare a 3,7. E prende 2,1. Perfetto. Abbiamo rinnovato i contratti anche a loro. Va bene, ragazzoli. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao. 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 Ciao.